E siamo arrivati al 15 febbraio, finisce anche questa settimana, oggi è venerdì, abbiamo 18 minuti, un wrap con 30 thrusters, 30 box jump, 30 oppure 21 calories raw, questa settimana il rover l'ha fatta da padrone e 30 toss to bar. Queste scalature come al solito sulla grafica qui di fianco, ci vediamo lunedì prossimo per un'altra settimana insieme su CicperTV, ciao, buon weekend.